Ciao ragazzi, oggi prepareremo questa famosissima ricetta, risotto di go, un pesce famosissimo in tutta la laguna di Venezia, soprattutto a Burano e a Chioggia. Seguite la ricetta, let's go! Carote, sedano e cipolla in un litro d'acqua. Mettiamo il nostro go, un chilo per quattro persone, e lo facciamo bollire con coperchio per un'ora e mezza. Fatto questo passaggio, leviamo il nostro go e lo mettiamo in un passino, e lo schiacciamo con un bel cucchiaione, facendo scivolare i suoi succhi in un'altra pentolina. Fatto questo passaggio, mettiamo mezzo chilo di riso a tostare in un'altra pentola, mettiamo un filo d'olio ad extravergine d'oliva, e sfumiamo subito con un po' di vino bianco. E man mano aggiungiamo pian pianino il nostro brodo di go. Passati i 30 minuti, mantechiamo con una noce di burro, parmigiano reggiano per i vostri gusti, e lo mantechiamo fino a fine cottura. Una spolverata di prezzemolo fresco, ci mettiamo un po' di pepe, ed il gioco è fatto. E adesso assaggiamo. Mmm, wow, una meraviglia! Seguitemi per altre ricette!